Con grande coraggio, con grande determinazione, nell'immaginare modelli nuovi, nell'immaginare modelli nuovi organizzativi, gestionali, informativi e di comunicazione. I cambiamenti in genere fanno paura, ma noi lo faremo tutti insieme. Sono cambiamenti necessari, necessari perché l'università deve essere sempre più competitiva a livello regionale, nazionale ed europeo. Lo faremo e lo faremo con grande determinazione. Rappresentano il fulcro principale. Troppo tempo abbiamo perso i progetti Masterplan. Ho preso a me la delega, sarò io responsabile di tutti e tre i progetti, perché su questi progetti che rappresentano il nuovo modo di fare didattica, ricerca e terza missione, l'università di Teramo e il nostro territorio non può permettersi ritardi di alcun tipo. Subito dopo Natale avvieremo l'ultimo step amministrativo. Prima dell'estate apriremo sicuramente tutti i bandi. Il taglio nazionale per il nostro Ateneo è di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Il sistema delle università pubbliche sta molto soffrendo. Sono in collegamento con tutti i rettori italiani per immaginare un modello di rilancio di tutte le università italiane. Ovviamente lo faremo anche per l'università di Teramo.